Buonasera e bentornati in questo nuovo video. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale e lasciare il like e attivare la campanellina per essere sempre aggiornati. Come si può vedere dalla mappa questa è la giornata attuale, quindi l'11 di maggio. Questa qua invece è la giornata del 13 di maggio. Come si può vedere entrerà dell'aria leggermente più fresca che farà abbassare le temperature. Questo qua è dovuto anche alla perturbazione che appunto ci raggiungerà in questi giorni, che è già in atto ma che si approfondirà anche nei prossimi giorni. Infatti ecco la giornata del 15 come si può vedere un'aria abbastanza verde, quindi più verde significa più fresco o meglio più vicino allo zero in quasi tutta l'Italia. Diverso invece da oggi dove l'aria invece era tutta gialla. Come si può vedere poi ritornerà gialla, quindi più vicino alle alte temperature per la metà di maggio e dovrebbe arrivare un po' di caldo soprattutto al sud Italia. Con temperature che supererebbero anche i 34-35 gradi in Sicilia, specie nelle parti centrali. Questa è quella giornata attuale per quanto riguarda le perturbazioni, infatti ha colpito soprattutto la costa tirrenica. Proprio ecco la giornata di domani dove avremo ancora dei piovaschi sparsi soprattutto al nord Italia, parte del centro, specie le regioni adriatiche, ma niente di così importante. Vediamo un po' di neve sugli Alpi di confine, soprattutto della Lombardia, no scusate del Trentino e parte del Veneto. Ecco qua la giornata del 13 dove avremo anche dei piovaschi sempre sparsi al nord, ma questa volta raggiungeranno anche il centro Italia, come possiamo vedere il Lazio e l'Abruzzo. Forse avremo anche qualcosa di leggero sulle coste tirreniche del sud. Ecco la giornata del 14 dove avremo una perturbazione che colpirebbe soprattutto la Toscana, infatti vediamo il centro di questa perturbazione, il comando si troverà proprio sulla Toscana. Vediamo la neve sugli Alpi che tornerebbe a cadere anche abbastanza bassa per il periodo. Infatti si vedrebbe già dai 1500-1600 metri, soprattutto in Veneto e Trentino. Poi ecco qua la giornata del 15 maggio dove avremo ancora dei piovaschi sparsi, soprattutto sulle coste adriatiche, ma niente di che veramente piovaschi molto deboli, che però farebbero abbassare comunque le temperature, anche se di poco abbastanza, in tutta la nostra penisola italiana. Per ora è tutto, un caro saluto da Samuel Ferrante, alla prossima.